La voglio riconquistare perché stare da solo è troppo dura. Bene, se questa è la motivazione che ti spinge a voler riconquistare la tua ex, caro mio, non siamo proprio sulla strada giusta. Spesso, infatti, tante persone vogliono riconquistare proprio perché se non riconquistano l'oggetto del desiderio, appunto la propria ex, sentono questo senso di vuoto, di abbandono e si sentono assolutamente soli. In questo video cerchiamo di trattare questa tematica abbastanza delicata, ma allo stesso tempo estremamente utile se sei in un processo di riconquista. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Inoltre, se ti interessa scoprire di più, guarda sotto in descrizione. Allora, dicevamo quindi rimanere soli. Appunto, c'è questo... partiamo da qua. Tanta roba da dire riguardo di sta roba. Partiamo da qua. Partiamo dal presupposto che non ci sarà mai una persona al mondo che ti farà sentire in compagnia se, prima di tutto, tu non sei risolto. Nella tua testa, riconquistare la tua ex significa riappropriarti magari di quella figura che ti faceva sentire capito, amato, visto, valorizzato, eccetera, eccetera. Però ti assicuro, e credimi, ti assicuro, che questo non è la panacea di tutti i mali. Perché se il mio sentir bene dipende da quel corpo che si avvicina o meno a me, ecco che qua abbiamo un problema. Cioè, quando quel corpo lì, appunto, si allontana, io vado in ansia, vado in panico, e quando quel corpo lì si avvicina, io sto meglio. Questa metafora può tranquillamente essere ricondotta alla metafora del bambino e della mamma. Il bambino, che cosa fa? Piccolo, indifeso, in un mondo adulto dove non ha controllo, non ha potere, ha la madre come punto di riferimento. E fino a quando c'è contatto con la madre, il bambino è tranquillo e sereno. Mentre se invece il bambino viene lasciato da solo e, appunto, la madre va via, il bambino va in panico, il bambino si spaventa, si chiude in un angolino, va lì, sta fermo. In tal senso, parentesi, se ti possono aiutare, vai a vedere le ricerche di John Bowlby con gli stili di attaccamento e un'altra tizia che in questo momento non mi ricordo come si chiama, che proprio faceva degli esperimenti dove, appunto, andavano a sperimentare l'attaccamento sicuro di questi bambini, cioè riproponevano quello che ti ho detto prima, bambino in un ambiente dove c'è comunque la madre, il bambino esplora vivacemente e tranquillamente, bambino che è messo in un ambiente dove non c'è la madre, il bambino è spaesato, non so che cazzo fare, ok? Quindi, insomma, questo è un attimo, vattelo a ricercare se ti interessa l'argomento. Tornando a bomba, che cosa noi dobbiamo fare, visto che ormai non siamo più bambini, ma siamo adulti e quindi ci dobbiamo prendere delle responsabilità? Dobbiamo capire che da adulti quello che è il meccanismo che entra è proprio quello infantile, cioè il meccanismo legato all'assenza della nostra caregiver, all'assenza di chi si prende cura di me. Chi si prende cura di me, però, non può essere l'altra persona, perché io, e seguo il mio ragionamento, sulla mia ex, sull'altra persona, sulle altre persone, ho proiettato i miei attaccamenti. Questa roba qua della solitudine, del rimango solo, eccetera, non ha nulla a che vedere con l'altra persona, ma ha a che vedere con i miei attaccamenti e le mie proiezioni. Questa cosa è molto importante che tu la capisca, perché se la capisci vai a sciogliere un nodo estremamente importante, poi a 360 gradi, nella tua vita, non solo nel discorso riconquista, che è un frammento, ok? E' importante capire questo dialogo con se stessi e stare in questo stato d'animo, quindi prenderti del tempo per esplorarti, perché se non vai a scegliere questo nodo, starei sempre alla merce di chi ti dà carezze positive. Quindi tu andrai dove ci saranno carezze positive. Ecco, diciamo che se dipendi da questo abbiamo un problema strutturale alla base, abbiamo un problema di attaccamento e questo chiaramente ha un'implicazione molto ampia su quello che riguarda la tua vita di relazione a 360 gradi. Quindi ti dicevo, è molto importante appunto non proiettare i tuoi attaccamenti, le tue insicurezze sul mondo esterno, ma prendertene la responsabilità. E quando tu ti senti solo e pensi all'altra persona e pensi che se ci fosse quella persona a fianco allora tu saresti meglio, è un meglio, diciamo, ben infiocchettato, ma non è un meglio per davvero. Perché se tu non sciogli questa roba qua, ti andrai comunque costantemente a coinvolgere con persone che ti faranno vedere questo lato di te. Mi ripeto meglio, se io non sciolgo questo mio attaccamento e quindi ho una sorta di, passami il term, passamelo da dire, dipendenza, anche se io non riconquisto la mia ex, quella lì, mi andrò a coinvolgere, quindi a sentire quelle sensazioni di innamoramento con delle persone che avranno dei tratti che faranno uscire questo lato di me. Perché se io uso questo esempio qua, se io prendo Scarlett Johansson, vorrei potertela presentare. Scarlett, se vedi questi video, ciao. Se io prendo Scarlett e te la metto come compagna di vita, è fantastico, e ti dà sicurezza, e ti abbraccia, ti culla, ti bla 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 bla, a un certo punto probabilmente tu ti decoinvolgi, cioè non provi più le stesse sensazioni che provavi con una persona che fa leva sul tuo stile d'attaccamento che è più legato all'abbandono, al rifiuto, ok? Cioè se tu ti coinvolgi con una persona che è evitante, rifiutante, una persona che è ambigua, una persona che non ti dà sicurezza, se io te ne metto uno, tu dici, ah quanto vorrei la sicurezza della mia vita, probabilmente ti sarà capitato di conoscere delle ragazze, anche magari belle esteticamente e fisicamente, con le quali però non c'era quel sentimento, magari ci trombi, magari ci vai a letto, magari ci convivi, magari in ottima compagnia per andare al cinema e a prendersi una pizza, assolutamente, però non c'è quel frizzicorio che ti faceva provare la tua ex, o altre persone in passato che facevano leva su questa cosa. È importante gestirsi la solitudine, perché se noi non gestiamo questa solitudine, in questo momento, quando ci sono queste grandi emozioni che girano nel nostro corpo, tutto il resto che ne consegue a distanza di tempo, ecco, è come se io mi trasportassi nel futuro, riconquisto la mia ex, ma se non vado a sistemare questi miei attaccamenti, è come se non avessi sfruttato questa opportunità, perché è un'opportunità. Gestire i propri nodi, i propri attaccamenti, signori, è una grandissima opportunità, e la solitudine che ne deriva in questo momento è la panacea di tutti i mali. Un giorno, riguardando a questo momento, ti dirai, ma che coglione che sono stato a non aver sfruttato appieno questo momento dove potevo fare un po' quel cazzo che mi pareva a 360 gradi e non dar conto a nessuno, ok? Quindi mi raccomando, prospettiva molto aperta, sii centrato, stai sul pezzo, noi ci sentiamo alla prossima, ricordati di iscriverti al canale e io ti lascio con questo video legato agli siti di attaccamento, un video che feci tantissimo tempo fa con l'esperimento delle due scimmiette con Bobby, eccetera. Vattelo a vedere perché è molto interessante. Ci vediamo alla prossima e non fare stronzate, cazzo, non fare puttanate, perché se ve le puttanate si è qua apposta. Scriviti, fai, ciao.